Ehi Dom, quanto manca l'allenamento? Ancora un quarto d'ora, facciamo un'altra partita Ok, ci sto Fammi la prima domanda È biondo? Sì Ha gli occhi azzurri? Sì Ilicic, Atebur, ti faccio un'altra domanda È un difensore? Sì, è un difensore Forse ho capito È tedesco e ha giocato nell'era con il Salmelo? Sì Ce l'ho, è Robin Gosens No, no ragazzi, non sono io Sì 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 Sì, ho un buon sentimento Sì 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 per il vero che ho avuto un buon lavoro, che ho trovato il mio modo per giocare il futebolso, che ho gioco i miei minuti sul gioco e che ho avuto una settimana successiva con l'Atalanta. I think they have to make their own picture about myself, but at the end I would say I'm a guy, I think most of the guys they like me, I play links back, left defender and yes I think I'm a smart guy and I want to have success with the team and with Atalanta. Ciao a tutti i tifosi, Forza Atalanta!